Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Inferno in autostrada, incidenti a catena 4, feriti gravi e traffico in tilt Ancora in gravi condizioni, gli anziani coniugi rimasti vittime di un incidente stradale a Marotta di Mondolfo fuori pericolo alla donna al volante della Y Esercizi commerciali nel mirino dei ladri, furti nel lungomare di Fano in un'abitazione a Urbino fiaccolata di solidarietà della Lega Nord che chiede al governo un intervento urgente per la sicurezza dei cittadini L'Alma Juventus Fano perde a Chieti per 2-0, terza sconfitta consecutiva fuori casa per i ragazzi di Alessandrini Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca 6 persone di cui 4 in gravi condizioni sono rimaste ferite questa mattina in un incidente accaduto sull'autostrada a 14 Si tratta di due tamponamenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro Ma sentiamo tutti i particolari in questo servizio di Lino Balestra 6 persone ferite di cui 4 in gravi condizioni, 5 i mezzi coinvolti, 3 le squadre di vigili del fuoco e 2 pattuglie di polizia stradale, 2 elicotteri e le urla delle sirene delle ambulanze in un lunedì mattina qualsiasi Non siamo in uno scenario di guerra medio orientale ma sull'autostrada a 14 nel tratto Fano Marotta in direzione sud questa mattina trasformata in un vero inferno di lamiere contorte persone incastrate in auto accartocciate come lattine vuote Due incidenti a pochi minuti di distanza hanno creato tutto questo Il primo, alle 7.45 siamo in corrispondenza dell'uscita di Marotta quando ad un mezzo adibito alla polizia del manto stradale con a bordo un uomo di 54 anni residente nel Forlivese esplode una gomma e urta violentemente il New Jersey pochi istanti e viene centrato in pieno da una Ford Focus che sopraggiungeva dietro di lui con a bordo due uomini uno di 45 anni, fanese, alla guida e uno di 78 anni, passeggero ambe due gli autisti rimangono incastrati nei mezzi e così la prima squadra dei vigili del fuoco di Fano arriva sul posto assieme alle ambulanze del 118 ma i due sfortunati automobilisti versano in gravi condizioni e così inizia la corsa degli elicotteri vengono chiamati tutti e due da Ancona e da Falconara e trasporteranno i due autisti all'ospedale Torrette di Ancona mentre il 78enne all'ospedale di Fano ma per loro non è ancora finita dovranno tornare di lì a poco nello stesso tratto di autostrada sono le 8.30, due chilometri prima la coda creata da questo incidente ne provoca un secondo ancora più vasto del primo un camionista greco che trasportava a patate tampona violentemente un camion di ghiaia che per l'urto subito finisce contro un Fiat Cubo con a bordo una donna di 40 anni originaria di Ivrea che si incastra sotto il terzo tir trasformando l'auto in un cartoccio ripartono le ambulanze e gli elicotteri questa volta sul posto oltre alla seconda squadra dei vigili del fuoco di Fano arriva una seconda di Pesaro e la gru pesante la donna viene estratta dalle lamiere priva di conoscenza e trasportata al Torrette di Ancona dove finirà anche l'autista greco per il quale ci vorrà quasi un'ora per estrarlo dalla cabina contorta del suo mezzo per lui è andata meglio si parla di fratture alle gambe coinvolta nella carambola di mezzi anche una coppia di tedeschi che viaggiava su una Passat nessuna conseguenza grave per i due ma la donna per precauzione viene portata a Santa Croce di Fano per accertamenti l'autostrada nel tratto Fano-Marotta è stata chiusa al traffico e riaperta solamente alle 10.30 4 i chilometri di coda formati in autostrada e notevoli ralentamenti e ripercussioni sul traffico urbano ed extraurbano di Fano sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Fano oltre al personale di Autostrade per l'Italia e rimangono in prognosi riservata i coniugi rimasti feriti in uno scontro frontale avvenuto domenica lungo la statale adriatica a Marotta ne avrà invece per una quarantina di giorni la donna di Senigallia che era alla guida di una Y Sembrava una giornata come le altre e invece per una coppia di anziani un'uscita domenicale si è trasformata in un dramma in pochi istanti Maria Serfilippi di 77 anni suo marito Sesto Beciani ottantenne sono ancora in prognosi riservata dopo il violento frontale avvenuto poco dopo le 17 lungo la statale adriatica 16 a Marotta di Mondolfo l'uomo che è ricoverato nel reparto di rianimazione del San Salvatore di Pesaro rimane in pericolo di vita e i medici stanno valutando se sottoporlo ad un intervento chirurgico di natura ortopedica sono ancora stazionari invece le condizioni della moglie che dopo l'incidente è stata trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancune in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate come si legge in un bollettino medico della direzione generale nelle prossime ore verranno eseguiti altri esami diagnostici radiografici in vista di ulteriori trattamenti chirurgici i coniugi originari di Monteporzio ma residenti a Marotta stavano procedendo in direzione sud a bordo di una Fiat Punto quando all'altezza del supermercato Eurospin si sono scontrati frontalmente con una lancia Y guidata da Alessandra Becci 43 anni di Senigallia rimasta ferita nel violento impatto la donna che è ricoverata all'ospedale di Pesero e non al Santa Croce di Fanno come era stato scritto in un primo momento ha riportato un trauma facciale potrebbe guarire in una quarantina di giorni non è stato semplice capire la dinamica dello schianto che tuttora è al vaglio della polizia stradale di Fanno i veicoli infatti erano entrambi rivolti nella stessa direzione e la Punto a causa dello scontro è stata scaraventata contro un'altra auto in sosta una delle ipotesi potrebbe essere un sorpasso azzardato l'incidente ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni per deviare il traffico sulle arterie secondarie sono intervenuti i vigili urbani di Mondolfo e i carabinieri di Marotta per le operazioni di soccorso invece oltre ai sanitari del 118 è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Fanno che ha estratto il pensionato dalle lamiere dell'abitacolo e ha messo in sicurezza la zona esercizi commerciali ancora nel mirino dei ladri lo scorso fine settimana hanno fatto visita a tre noti locali del Lido di Fanno ladri in azione nella notte scorsa tra sabato e domenica nella zona del Lido di Fanno presi di mira alcuni locali il ristorante Taverna dei Pescatori dove i ladri dopo aver rotto il vetro di una finestra non hanno trovato nulla da portare via al suo interno ma hanno causato solo danni alla struttura a bocca asciutta anche quelli entrati al bonbon forzando una porta sul retro poco dopo le 4.30 di mattina perché i tre cassetti delle casse che hanno portato via non contenevano soldi nemmeno il fondo cassa al ristorante Porto Verde stessa metodica sfondata una porta del locale ma non trovando niente di meglio da portare via hanno rubato liquori di marca e bottiglie di vino i ladri inoltre hanno fatto visita anche in tre abitazioni vicino all'istituto Volta nella tarda serata di domenica portando via oro e preziosi dopo essersi introdotti al loro interno per questi ultimi furti indagano gli uomini del commissariato di Fanno coordinati dal dirigente Stefano Seretti e la polizia di Urbino ha arrestato un 29enne di Fermignano per furto aggravato è accaduto all'alba di domenica 28 febbraio quando al 113 è arrivata la chiamata di una donna residente lungo la strada rossa che ha segnalato la presenza di un ladro all'interno dell'abitazione del figlio attualmente in ricostruzione quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno colto sul fatto il mavevente già noto alle forze dell'ordine e lo hanno bloccato mentre cercava di fuggire per le scale con in mano cavi elettrici e altro materiale del cantiere sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale presenza di complici e in segno di solidarietà con le vittime dei furti la Lega Nord ha organizzato una fiaccolata di fronte a un bar fanese che è stato più volte visitato dai ladri una delinquenza che ormai dilaga in tutte le strade a tutte le ore derubati due volte dai ladri e dallo Stato è una delle frasi riportate sugli striscioni di una ventina di esponenti della Lega Nord che con vestiglie e fiaccole in mano hanno manifestato di fronte a uno dei bar fanesi preso di mira dai ladri più e più volte ben 5 negli ultimi mesi e più di 10 in 6 anni di attività tant'è che ora tutte le assicurazioni si tirano indietro ma negli ultimi giorni sono diversi colpi messi a segno sia nelle abitazioni che negli esercizi commerciali di Fano come in alcuni bar e ristoranti del lungomare e in un tabacchi del centro storico che da un furto si è trasformato in una rapina nessuno è più assicuro dicono neppure dentro casa una situazione che per il carroccio va affrontata con urgenza da parte del governo non solo di solidarietà con le vittime ma anche per chiedere al governo cose semplici primo ripristinare la galera per chi ruba secondo espulsione immediata dopo scontata la pena di recidivi eliminare tutte quelle norme che cosiddette svuota carcer che impediscono oggi come oggi i prendi ladri anche quando li prendi di tenerli in galera in altri termini è vero che è bello identificarli riprendi poi dopodiché domiciliari che è una presa in giro perché queste alla sera lo sanno tutti alla sera riescono e si fanno burla del nostro popolo le nostre istituzioni e soprattutto i nostri cittadini questa è una prima fiaccolata che faremo per ricordare appunto a tutti per questo non è una cosa della Lega o di qualcun'altra è una cosa del popolo che il governo ci deve difendere e per difenderci bisogna fare altre cose primo costruire nuove carceri per tenerli dentro secondo assumere nuovi agenti polizia penitenziaria e personale amministrativo di cancelleria perché quello accelera i processi e terzo basta col buonismo i ladri la prima volta li perdoni la seconda li perdoni ma quando uno ha peccato più volte sta dentro e butti via la chiave semplice lineare chiaro ben amato sindaco di Pesaro vice segretario nazionale del PD ci dice che lui adesso fa le ordinanze anti-accattoni bene ti faccio la multa non c'hanno a perdere niente è una presa in giro una prima fiaccolata ha detto perché avete intenzione di organizzarne delle altre sì il problema è che come si dice non ci si sta più dietro perché anche oggi a San Benedetto hanno picchiato un signore che era un distributore l'hanno bastonato in tre a Fermignano cioè qui il problema è che noi cerchiamo di risvegliare delle coscienze assopite da un governo che chiacchiera di tutto di matrimoni gay meno che della cosa fondamentale per i cittadini che sono il lavoro e la sicurezza noi speriamo con queste fiaccole di riaccendere l'attenzione ai cittadini poi non so se ci riusciremo ma ci stiamo provando E ancora cronaca alla stazione ferroviaria di Ancona gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato una 24 anni originaria del pesarese che nascondeva la droga nelle parti intime la ragazza che viaggiava in treno per rifornire pusher nascondeva negli slip tre involucri contenenti ognuno due grammi di cocaina un foglio di carta piegato in due con circa un grammo di droga due busse contenenti roina e 19 pasticche di ecstasy nella sua borsetta invece sono stati rinvenuti quasi 400 euro in contanti considerati provento dell'attività di spaccio Cambiamo argomento Saverio Olivi è stato confermato presidente del CB Club Mattei Volontariato di Protezione Civile il consiglio direttivo che resterà in carica fino a febbraio 2019 sarà composto anche dal vicepresidente Alessandro Sartor dal segretario Katia Primavera dal tesoriere Gabriele Brescini dai consiglieri Adriano Ferri Fabrizio Battistelli e Moreno Belli Adesso passiamo allo sport al calcio di serie D perché domenica l'Alma Juventus Fano ha perso a Chieti 2 a 0 nel secondo tempo ha espuso torta e tante polemiche anche per il calcio di rigore che ha sbloccato diciamo così il risultato e adesso vediamo i risultati per quanto riguarda come abbiamo detto Chieti e Alma Juventus Fano è finita 2 a 0 Recanatese Minternina 2 a 0 Olimpia Agnonese Campobasso 0 a 0 5 a 1 invece per San Nicolò contro il Giulianova Esina Folgore 2 a 1 San Benedettese Esernia 1 a 1 3 a 1 per Avezzano Mattelica Castelfidardo Monticelli 1 a 0 Fermana Vispesaro 0 a 1 Nel prossimo turno invece la squadra Granata giocherà contro il San Nicolò allo stadio Mancini La classifica invece al primo posto San Benedettese con 62 punti Mattelica 51 e 47 per l'Alma Juventus Fano Fanalini di coda Mionese con 24 e Giulianova con 22 punti Le pagelle invece di Sergio Catalani ha dato un bel 6 a Marcantonini Marconi 5 così come De Iori e Lunardini 5 e mezzo per Nodari ancora 5 per Torta 4 e mezzo per Sivilla 5 e mezzo per Bartolini 6 per Gucci Marianischi 5 ancora una sufficienza per Ambrosini senza valutazione invece Borrelli Camilloni e Terre per il mister Alessandrini un 5 Andiamo avanti la cooperativa Alma Nel Cuore ha organizzato un secondo appuntamento per i tifosi fanesi l'incontro si svolgerà mercoledì 2 marzo a partire dagli ore 20 al bonbon caffè di Fano per una pericena gratuito oltre alla possibilità di tesseramento il presidente Giovanni Orciani farà il punto della situazione illustrando anche i vantaggi per i tesserati in virtù dell'accordo commerciale siglato con il circuito commerciale Interazione Linus e questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con gli auguri a 111 fanesi che compiono gli anni oggi a organizzare una festa per questo compleanno bisestile è stato anche il maestro pasticcere Stefano Ceresani che per l'occasione ha preparato una torta al cioccolato fondente caffè e frutto della passione hanno aderito anche Renato Claudio Minardi vicepresidente del consiglio regionale il nostro conduttore Lino Balestra è una ragazza fanese di nome Ilaria Arrenzoni e quindi ora vi lascio con le immagini di questi festeggiamenti vi do appuntamento per domani sera con un'altra edizione di Occhia alla Notizia puntuale sempre alle ore 20 e 30 grazie per la vostra attenzione arrivederci un saluto a tutti gli amici di Fano TV in un giorno così speciale come il 29 febbraio da quelli che sono venuti qui a pasticcere a tagliare questa torta speciale per un giorno speciale ciao ciao ciao